Gianni Reveane, fotografo professionista, si è cimentato nella realizzazione di due lungometraggi che trasmetteremo nei prossimi giorni. Il primo, Sofia, narra la storia di una misteriosa ragazza che bussa alla porta della canonica di un anziano sacerdote in cerca di un riparo. Non si sa da dove venga e chi sia in realtà. La sua presenza innesca una serie di fatti che coinvolgono altre figure che ruotano attorno al prelato. Dopo aver soccorso il suo ospite, la ragazza sparirà nel nulla. Lasciando la suggestione di un intervento divino. Il secondo, la cosa più bella, con una lineare trama basata sui rapporti sentimentali tra un giovane musicista e due ragazze molto differenti tra loro per carattere, esperienze e passioni, porta a ragionare sull'importanza dei veri valori della vita, che non sono materiali, ma umani e sentimentali. Anche in questo film è presente una misteriosa ed eterea figura femminile, che stimola le riflessioni del protagonista. Entrambi i lungometraggi sono stati girati per buona parte in provincia e si sono avvalsi delle capacità interpretative di attori non professionisti e sono caratterizzati dalle musiche originali del comeliano Daniele De Bettin. La prima programmazione di Sofia è per sabato 20 giugno su Tele Dolomiti alle 20.55 e domenica 21 giugno alle 21.20 su Tele Belluno. Buona visione.